Musica Beh ragazzi, oggi veramente una dietro l'altra una marea, veramente tantissime informazioni perché abbiamo parlato stamattina di De Ligt e di Morata a direzione Barcellona il primo, non c'era clausola, ne abbiamo parlato nel video che è uscito intorno all'ora di pranzo invece Alvaro Morata c'era questa voce, no, che lo voleva vicino al Barça perché Xavi lo avrebbe richiesto e avevo detto che secondo me non sarebbe stato davvero così ma che non mi sarei stupito poi di vederlo lontano a Torino già a gennaio vi invito a recuperare quel video in cui faccio anche un accenno al discorso Covid di Juventus-Napoli e di quello che sta succedendo, Ossimene è positivo, sono gueriti da Fabian Ruiz e Insigni mentre Lozano invece ancora una volta è positivo pure lui però il discorso che ho fatto all'interno di quel video rimane valido ma ci sono nuove informazioni per quanto riguarda Morata in Spagna Morata in Catalogna, Morata al Barcellona che andrebbe a giocare nel terzo club spagnolo importante Real Madrid e Atletico li ha già fatti, Barcellona gli manca non ricordo in realtà un giocatore che ha giocato in tutte e tre perché tipo Suarez, Griezmann hanno giocato in tutte e due insomma Ronaldo ha giocato Real Madrid e Barcellona ma non Atletico quindi sono Ronaldo il fenomeno ovviamente, non Cristiano non mi viene in mente un calciatore che li abbia fatte tutte e tre magari chi è più informato di me sotto questo punto di vista me lo scriva qui sotto nei commenti non mi tornava, non mi tornava per un semplice motivo perché la Juventus se fa uscire un calciatore, se fa uscire Alvaro Morata e prende per dire scamacca non ha risolto qualcosa, ha semplicemente scambiato l'attaccante io tra l'altro sono fortemente convinto che l'attaccante di una squadra il tipo di attaccante, le caratteristiche dell'attacco vadano a condizionare tantissimo la costruzione del gioco intorno nel senso che è ovvio che se giochi con un giocatore di 1,75 m difficilmente andrai sul fondo a mettere il cross al centro dovrai scegliere una via magari più centrale, più di movimento se giochi con un attaccante di 2 metri invece difficilmente farai dialogare in mezzo tra le linee i giocatori per portarlo a dribblare perché è molto portato probabilmente per il gioco aereo se abbiamo un giocatore come Cristiano Ronaldo non lo puoi lasciare lì fermo in area di rigore e dirgli ora tu fai, no perché Cristiano Ronaldo lo sappiamo, l'abbiamo visto tante volte ama partire da sinistra quindi a seconda del calciatore che hai tu al centro dell'attacco o che va a comporre il tuo tredente, attacca a 2, attacca a 4, come vuoi dipende dal tuo modo di giocare Chiesa lo vogliamo far andare in velocità, vogliamo passargli la palla sui piedi o sulla corsa difficilmente gli chiederemo di andare per via centrale a fare la serpentina alla Paolo Di Bala per dire insomma tutti gli attaccanti hanno delle caratteristiche diverse e su QP poi si va a strutturare il gioco perché nel gioco del calcio l'idea di fondo rimane quella di far gole quindi mettere nella condizione migliore possibile gli attaccanti di segnare, quindi questa secondo me è un po' una cosa che molte volte non si dice ma che rimane uno dei principali modi di analizzare una squadra è ovvio che se va via Alvaro Morata che l'abbiamo detto tante volte non è l'attaccante ideale per fare quello che Allegri chiede alla squadra cioè magari tante volte di giocare spalle alla porta di sacrificarsi in questa fase in cui Alvaro non è bravissimo Alvaro è bravo a fare tanto altro, a correre a destra, a sinistra è bravo a prendere il pallone anche largo, portarlo sull'esterno far la spalla all'attaccante ma non è quell'attaccante che a fine anno guardi e dice wow, Morata ha fatto 30 gol quest'anno no, Alvaro non è quell'attaccante lì Alvaro è l'attaccante che ti completa l'attacco alla perfezione quindi farlo andare via per scamacca un conto è se ce li hai tutti e due un conto è se uno è dentro e uno fuori non lo capisco però si aggiunge un pezzettino al puzzle che riguarda Memphis Depay perché? tanto che è stato confermato anche da Romeo Agresti che Juventus, Barcellona, Barcellone e Morata Barcellone e Atletico hanno parlato tra di loro per questa cosa qui e che addirittura il Barcellona andrebbe a coprire alla Juventus la spesa che ha già effettuato per il prestito di Morata di quest'anno quindi ci darebbero i 5 milioni che noi abbiamo già versato i 10 all'Atletico quindi lo metta 5 a noi e tra l'altro il Barcellone e l'Atletico potrebbero essere interessati a scambiarsi alla fine Griezmann e Morata prossimo anno, quest'estate quindi concludere la stagione con Griezmann a Madrid e Morata a Barcellona e poi scambiarsi i giocatori quest'estate per averli a titolo definitivo ma non solo perché il Barcellona avrebbe detto alla Juventus per questi 6 mesi eventualmente se no possiamo noi darti Memphis Depay allora parto da un principio io sono follemente innamorato di Memphis Depay è un gioco che tutte le volte che ho visto giocare mi è sempre piaciuto un sacco ma veramente tanto Depay è un calciatore interessante ma non è una prima punta quindi se oggi devo pensare eventualmente esce Morata ed entra Depay dico non andiamo ad aggiustare niente di quello che ci serve a livello nostro noi serve un centravanti un bomber d'area di rigore questa roba qua fuori Morata dentro Depay non risolvi cosa cambia? è un altro giocatore che non è una prima punta che può fare la prima punta che non può farti quel lavoro di cui parlavamo spalla alla porta però se oltre a dare via Morata e prendere Depay riesci a prendere anche davvero Scamacca ecco che eventualmente accetto anche l'idea di prestare Caio Horge perché non avrebbe minuti se no da giocare poveraccio e quindi andresti a comporre i due prime punte che sono Scamacca e Moise e Ken che lo interpreto anche loro in modo diverso perché Ken giochete un po' più mobile rispetto a Scamacca due mezze punte Dybala e Depay e poi eventualmente 4231 442 che dir si voglia li puoi incastrare che ne so puoi fare Ken Depay Dybala Depay Dybala Scamacca Scamacca Depay lo stesso Ken Scamacca le puoi veramente fare delle coppie come ti pare senza dover per forza poi variare module qui e là no te ti concentri ti fai il tuo 4231 442 chiamalo come vuoi e c'hai le tue coppie di attaccanti e sugli esterni c'hai Chiesa Bernardeschi per quanto riguarda la sinistra in teoria a destra c'hai Quadrado Kuluseschi quindi il modulo sembra presentarsi benissimo quindi devo dire la verità se ad oggi mi dicono firmi per Morata per Morata che va al Barcellona e Caio Orghi che ti fa qualche mese in un'altra squadra per guadagnare qualche minuto nelle gambe e ti entrano Depay per sei mesi di prestito e Scamacca che poi vai a prendere con l'obbligo di riscatto anche se 40 milioni per me sono ancora tanti vi dico di sì perché secondo me vai a migliorare sensibilmente l'attacco Depay secondo me è il giocatore più forte di Alvaro Morata e Scamacca ti serve perché ti serve il centravanti di quel tipo lì quindi immaginarmi di avere solo Scamacca al posto di Morata non ci sto però se sono Scamacca e Depay vai a migliorare assolutamente e questo poi andrebbe a incastrarsi con la lista Champions perché sappiamo bene che per far entrare qualcuno qualcun altro lo devi cedere è vero che Caio non è in lista Champions e quindi non libera niente però Ramsey sì ciao Ramsey lo stesso Arthur dovrebbe partire a gennaio e quindi ecco che escono Ramsey e Arthur che sono due giocatori in lista Champions e Morata quindi sono tre giocatori in lista Champions entrano Pellegrini che è già tuo Depay appunto e Scamacca Caio non è più in lista Champions tu vai a completare perfettamente la lista Champions grazie a Pinsoglio e a Ken che sono CTP ed ecco qua questa è la rosa che avresti a disposizione cedendo i due centrocampisti che Allegri non ha utilizzato nella prima parte di stagione cedendo Alvaro Morata io per questa Juventus qua firmo adesso ve lo torno a dire io ripeto che se il mercato di gennaio che notoriamente è un mercato in cui qualcosina sì qualcosina no tu riesci a prendere Scamacca e appunto Depay in prestito cedendo Ramsey Arthur e Morata e Caio in prestito beh io sono contento poi si potrebbe pensare a un centrocampista perché c'è i due centrocampisti che ne rimangono solo quattro forse quattro sono un po' poco ne andrei a prendere anche un altro però poi c'è il problemino della lista Champions perché dopo qualcun altro deve venire fuori uno tra dei scidi o Gani probabilmente però una roba del genere e se vogliamo un centrocampista ci sto ci sto alla grande quindi sono ancora dell'idea che non si farà questa roba di Morata o comunque non si farà che sarà complicata ma la vedo già più probabile rispetto a quando stamattina ho letto la notizia perché perché se deve soltanto uscire Morata e basta se invece deve entrarne un altro e se quell'altro è Depay è vero che Depay ha avuto dei problemi fisici è vero che anche Di Vala ha dei problemi fisici o basta che te ne giochi uno dei due dietro la punta o insieme alla punta nel 4-2-3-1 4-4-2 dopo avresti quattro opzioni interessanti lì davanti per quelli che giocano in mezzo che ricoprono i ruoli di prima punta e seconda punta io sarei contento non so voi e attenzione perché va bene che la Juve probabilmente non è convintissima ancora non è detto che si farà questa roba qua ripeto io incrocio le dita per una roba del genere c'è anche Dembélé del Barcellona c'è questa chiacchiera secondo la quale sempre in Spagna oggi veramente in Spagna ce l'ha ancora Juventus Barcellona Juve si scambia alle squadre tra poco ci manca poco ormai abbiamo già trattato tutti i giocatori Dembélé avrebbe trovato l'accordo per accasarsi a Turin a parametro zero l'anno prossimo allora qua bisogna ragionare sul fatto che anche Dembélé ha avuto tanti infortuni vi lascio anche comunque la scheda fisica di tutte le partite che ha saltato per infortuni sono tante c'è da dirlo però un conto è se mi vai a prendere il giocatore a 100 milioni come ha fatto il Barcellona anni fa un conto è se te lo pigli a parametro zero ovviamente poi bisogna capire quanto gli vai a dare di ingaggio perché non voglio rischiare un Ramsey bis però se l'ingaggio deve essere tra i 4 e i 5 milioni un giocatore come Dembélé a parametro zero io lo prendo io lo prendo anche perché comunque sta uscendo Bernardeschi che è in scadenza di contratto non sai se lo rinnoverai abbiamo visto prima quelli sugli esterni della Juve qualcosa in più ti serve Dembélé è un giocatore ancora giovane se non pago cartellino e se l'ingaggio non è elevatissimo perché ovviamente poi non voglio rischiare di avere l'ennesimo calciatore che non gioca mai e guadagna un sacco di soldi ma io lo prendo ma io lo prendo alla grande e non so nemmeno probabilmente si sarà un titolare però se prendi un titolare a parametro zero sei contento l'anno prossimo immaginarti Scamacca Dybala Chiesa e Dembélé sempre nel 4-2-3-1 mi sembrano tutte notizie un po' così perché immaginarmi Depay in prestito per sei mesi che tra l'altro anche in Champions ha esperienza è un'altra delle cose belle di Depay che ci ha fatto gol ci ha eliminato la Champions come Ronaldo come De Ligt quindi andiamo perfettamente a ricalcare uno schema ormai ancestrale che ci portiamo dietro da tempo e uno come Dembélé a zero lo so non è integro fisicamente bellissimo ma è un giocatore ancora giovane con delle grandissime potenzialità qualcosa di interessante l'ha fatto vedere negli anni se solo 2-3-4 anni fa non mi ricordo quando l'ha acquistato il Barcellona 3-4 anni fa è stato pagato 100 milioni di euro immaginarselo a zero io non penso che nel giro di 4 anni un classe 96 mi pare Dembélé riesca da 100 milioni che probabilmente non li valeva però quello è stato il prezzo pagato a zero ci sono 100 milioni di riferenti a pagarlo ecco pagarlo vi dico no probabilmente non lo pagherei però immaginare un giocatore del genere di cui paghi solo l'ingaggio e che è ancora relativamente giovane e che delle cose belle le ha sempre fatte vedere io capisco che i tifosi del Barça a 100 milioni non sono contenti di averlo preso ma a zero ribadisco a zero è un bel parametro zero ho controllato adesso 15 maggio del 97 addirittura e quindi niente ragazzi penso che sarà l'ultimo video di giornata l'ultimo video in cui parliamo di Barcellona che vuole tutti i giocatori della Juve io ripeto mi sembrano assurde queste notizie perché pensare alla Juve che vi ho fatto vedere prima per la seconda parte della stagione io sarei felicissimo fatemi sapere anche la vostra risolvi il problema della lista Champions risolvi il problema di Morata che io se fossi Morata probabilmente accetterei dato che è chiaro a tutti ormai che non verrà riscattato dalla Juventus tornare in Spagna per Morata può essere una cosa buona all'interno di una squadra dove lo stesso allenatore lo vuole ok e prendere Depay per gli ultimi mesi per aiutarci cioè a me sembra assurda sta cosa cioè se davvero questa roba è vera la Juve dice no guarda Depay non lo voglio impastisco ma anche perché sto guardando adesso 15 partite 8 gol col Barcellona quest'anno Depay cioè non è andato male ha fatto un buonissima prima parte di stagione in un Barcellona disastrato cioè boh non lo so perché non dovremmo dire di no a 6 mesi di prestito di Depay in cambio di Morata e prendere poi anche Scamacca cioè perché non dovremmo farlo questo video è imbarazzante perché faccio fatica a dirvi più del lo farei di corsa tutto ciò mi sembra troppo vantaggioso per la Juve e quindi niente fatemi sapere anche la vostra qui sotto nei commenti è un video strano spero di essere stato abbastanza chiaro queste ovviamente sono mie considerazioni personali considero tutto questo assurdo e impossibile